...questa consegna simbolica di tre attestati dei centri scolastici, dopodiché l'iniziativa procede, non so, ci si procediamo poi con il solito staffa, andremo avanti. Allora, al liceo Regina Margherita, per aver offerto una straordinaria opportunità formativa agli alunni, favorevole la partecipazione alla World of Fans in luce d'artista che si è tenuta a Salerno, dal Semi Centro 2014 al 12 gennaio 2014. Allora, all'Istituto Berghiero Virtuoso, con le stesse motivazioni, abbiamo attestato la partecipazione. Infine, sempre con le stesse motivazioni, la Santa Catarina da Siena a Mentora, Grazie, buon lavoro.